benvenuto Antonio Vallone benvenuto grazie e benvenuti a voi vi porto a fare un viaggio nella mia vita se non erro hai anche allenato miei di solito ho allenato ragazzi molto bravi salutiamo Alfonso lui era bravino più bravo di me difficile vorrei partire un attimo dalla fine chi è Antonio Vallone oggi? Antonio Vallone oggi è un uomo un papà marito e un grande lavoratore 13 ore al giorno di lavoro e non mi stanco mai quindi è una persona che ancora non è arrivato anzi mi sembra che più lavori più c'è energia quello è sicuro non mi sento arrivato anzi proprio la voglia di affermarsi e mi piace questa cosa ecco perché vi ho detto subito sì perché voi siete giovani avete la fame giusta per arrivare io quello che dico sempre a tutti anche arrivati all'età mia non la diciamo è quella di non fermarsi perché poi è un attimo cioè ti fai tanta fatica per per arrivare che poi non sei non sei arrivato ci vuole un attimo a tornare a tornare indietro quindi importante per chi ci ascolta quanti anni hai? 16 luglio 80 data importante per Terracina ecco perché la sottolineo 16 luglio 80 quando fanno i fuochi d'artificio la processione a mare quando sono nato io c'era la processione a mare io sono nato all'ospedale vecchio sopra facevano i fuochi d'artificio mia madre la portava a mia madre addirittura i fuochi d'artificio no era la madonna che usciva poi adesso quando fanno la processione c'è stata la madonna San Rocco fra qualche anno ci sarò io dietro ah ok è vero qui arrivo a festeggiare ascolta mi ha detto che Antonio oggi si sente un papà un grande lavoratore quanto riesci quanto equilibrio riesci a dare alla tua vita perché so che è difficile tante volte devi togliere per forza da qualche parte per dare la mia vita è 90% lavoro purtroppo la famiglia è pochissimo purtroppo perché veramente ti dico i numeri perché poi quando parlavo altro giorno dico sei un malato di numeri io ci sto 15 minuti con mio figlio la mattina e mezz'ora mezz'ora la sera questo durante la settimana però parli fisicamente o perché riesci solo a dedicargli quel piccolo fisicamente perché poi non ci sto proprio non ci stai fisicamente non ci sto fisicamente a casa sono importanti però quei 15 minuti che gli dai oddio la mattina io non parlo lui non parla se ci dico bello di papà ma mozzica quindi la sera ceniamo e poi magari fa qualche coccola sul divano ti dico che ho dovuto fare un gruppo whatsapp io lui e mia moglie perché io veramente interagiva soltanto con mia moglie quindi ho detto ma fate sapere quello che fate almeno così scrivete sul gruppo che c'è magari gli allenamenti le partite se giocano durante la settimana io non mi posso vedere una partita di mio figlio io che tipo di bambino vorrei capire le differenze ti dico una cosa sono da Antonio piccolo e tuo figlio no tanto l'opposto proprio sì sì lui è molto molto equilibrato dico è intelligente anche si dice che mi dice sempre questa cosa è meglio essere furbi che intelligenti mo l'ho salutato ho detto papà va devo andare a fare un'intervista con Peter ma devi andare solo tu o te vieni pure io mi ha detto mi ha messo in difficoltà perché io scherzavo e lui l'ha presa sul serio anzi ti voleva far fuori ha detto ah devi andare solo tu infatti è così no lui è veramente mi piacerebbe adesso proiettarmi da qua a vent'anni per vedere quello che farà quello che gli dico sempre è che lo freno perché pure io all'età sua ero bravissimo ero bravissimo nello sport ero bravissimo a scuola poi andando avanti con l'età le cose sono un po' cambiate soprattutto con la scuola quindi io mi auguro che lui veramente arrivi a fare quello che non ho fatto io con la scuola che valore gli dai tu alla scuola veramente ad oggi? la scuola? la verità però la scuola vogliamo sentire la solita cantina che sentiamo in televisione mio figlio dice che lui vuole fare un youtuber no? perché ha già capito che la scuola non serve quindi ha capito che ha due cose importanti quindi fare i soldi prima non era così un anno fa due anni fa quando non aveva il telefono quindi adesso che vedendo come va il mondo ha capito che la scuola poi non è così importante però io da papà gli devo dare un valore importante perché gli devo dire che è fondamentale ma non tanto per il pezzo di carta ma per la cultura che ti dà per le conoscenze anche se poi le conoscenze le puoi avere anche extra scuola però l'ambiente scuola è fondamentale quindi io gli auguro auguro a tutti comunque di arrivare a fare l'università di vivere l'università non come l'ho vissuta io da pendolare ma viverla l'università e stare più tempo possibile nell'ambiente scolastico universitario però prima mi hai detto mi hai detto parlando a tuo figlio gli hai detto ma io gli devo dire così anche se non c'hai questo pensiero poi del tutto veritiero giusto? no no è vero non la penso così perché vedi poi è normale vedi tanta gente che ce l'ha fatta che è arrivata dove è arrivata non parlo poi del mondo dello sport perché poi quello si tratta di talento ma io vedo anche chi ci governa che magari non ha fatto gli studi però stanno là quindi poi è difficile spiegarle quelle cose e il discorso è un po' più ampio della scuola serve o non serve penso no è forse due ore sì perché noi siamo costretti a dire che la scuola serve ma poi ti dovrei fare un'altra domanda serve o non serve a fare cosa? bravissimo per fare il parrucchiere serve la scuola per diventare l'anno di personal trainer serve la scuola potrei dire anche di no diciamo è una sorta in percentuale nella vita è una sorta di disciplina che dai a te stesso cioè c'è una piccola percentuale per cui serve la scuola ma quella poi ti diventa una sfida già ogni volta che ti assegnano il compito quella poi nella vita quanti compiti noi dobbiamo fare ogni giorno e non ci va di fare i compiti ok? e io ogni volta gli do di dire a mio figlio lo sai quante volte dovrai fare i compiti nella vita e non ti andrà ma lo dovrai fare lo dovrai fare quindi se oggi ti lamenti per i compiti che ti danno alle medie e vuoi andare al liceo e poi vuoi andare all'università è difficile quindi il discorso è proprio questo cioè tu a oggi devi essere bravo per crescere la parola che hai detto tu la disciplina ma quella disciplina ti serve sempre non ti serve solo nella scuola ti servirà nel lavoro ti servirà nella vita con la famiglia per organizzare qualsiasi cosa a livello di azienda quindi la disciplina è la parola chiave in un processo di crescita come stai contestualizzando la scuola io sono d'accordo se tu vivi la scuola in maniera diversa semplicemente come cultura personale poi ti diventa tutto più facile magari cambia un po' il sistema scolastico diciamo e magari poi continui a studiare per il bene ho visto una trasmissione che parlava proprio di cose che mancano nella scuola si parla di alimentazione dei danni che fa l'alimentazione nella scuola se ne parla pochissimo di alimentazione continuiamo ancora a stare nei metodi vecchi della scuola quando oggi il mondo è completamente cambiato bisognerebbe parlare di social tecnologia di alimentazione di salute di sesso qua invece le cose le scopriamo così le cose a volte vengono viste solo negativamente però ormai tipo social fanno parte della nostra vita quotidiana non si può far finta di nulla piacciono o non piacciono non si può far finta di nulla ma dopo di questo ne parleremo un po' di social ci sarà un tumuto forte ti collego la scuola a te bambino che bambino sei stato che istruzione hai avuto tu ai genitori i miei amici uscivamo passeggiavamo passeggiavamo non facevo quello che fanno che hanno fatto altri ragazzi scape strati io ero veramente un ragazzo tranquillo io passeggiavo passeggiavo una cifra con lo scudo passeggiavo tanto a piedi andavamo ovviamente in giro qua quando eri più piccolo però però giocavo più piccolo giocavo solo a pallone cioè più piccolo ovviamente io facevo i campi di calcio con il gesso ma proprio col gesso le porte con i mattoni le porte con i mattoni e si giocava poi se c'è stava il torneo dei tennis internazionale d'Italia in quel periodo là diventava non più calcio ma diventava tennis quindi io al muro facevo una linea e giocavo a tennis io al muro ma mi andavo a comprare la racchetta da qua ci stavo in negozio però facevi questo perché venivi comunque da un contesto ricco no? tua famiglia era ricca io so chi ti ha detto? assolutamente no assolutamente no vengo proprio dalla strada io e poi ecco magari nella comunione si si qua a Terracina io dico sempre cresciuto alle baracche e poi sono andato a vivo alle case popolari quindi c'è una canzone di uno di uno di questi trapper famosi che parlava di questo che poi sei diventato diventato famoso però poi uno non vede vede mai quello che ci sta quello che ci sta dietro è tutto è tutto il culo che uno si è dovuto fa veramente da solo sei qui oggi proprio per questo vogliamo far vedere scoprire alla gente ma io sono orgoglioso di questa cosa non è una botta di culo no a me mi è sempre piaciuto per raccontarla raccontarla questa cosa perché poi diventare qualcuno con la pappa pronta è più facile sicuro cioè tu dici a mamma dici a papà che mi potete aprire una palestra e loro te l'aprono e tu stai là dentro poi se sei capace non sei capace ma a me non mi hanno mai fatto niente no sai che però io stimo un sacco i ragazzi che comunque se vengono da una famiglia ricca tu alla fine non hai colpe giusto però che sfruttano quella loro fortuna per fare ancora meglio perché comunque chi parte da zero comunque è svantaggiato chi parte già da due tre punti comunque si ritrova già in un contesto più facile però io stimo comunque chi lo fa perché è molto più facile perderti quando tu vivi tante agevolazioni ti ritrovi già col soldo in tasca ti ritrovi già con il lavoro del papà invece stimo quei ragazzi che si allontano dal contesto familiare ma lo sfruttano per fare comunque del bene io quelle persone le stimo perché tante volte è anche più difficile avere i soldi in tasca e darti da fare è difficile no è più facile sbagliare quindi con i soldi in tasca è più facile sbagliare perché comunque dici vabbè ci provo a fare questo poi se mi dice male mi sposto su quest'altra cosa poi se mi dice male mi sposto su quella tanto non succede niente quando non ce l'hai i soldi in tasca devi essere bravo e non puoi sbagliare non puoi sbagliare non puoi sbagliare perché se sbagli e come è successo a me che io una volta ho sbagliato facendo un investimento aprendo una palestra troppo più grande delle mie capacità delle mie possibilità ho fatto il botto l'ho tenuta aperta cinque anni poi ho deciso di chiuderla perché comunque ci stavo guadagnando è stata cinque anni tenuta aperta? sì quella praticamente me la so pagata con i soldi delle buste del matrimonio capito? mi sono risposato per la seconda volta per aprirmi una palestra io andrò ti volevo chiedere questa cosa però amore ti amo ti volevo chiedere tanto ognuno di noi quando è ragazzo c'è un idolo che dice voglio diventare come a lui è vero Antonio Collone tu eri l'idolo di te stesso l'idolo l'idolo immagino uno sportivo immagino l'idolo mio sportivo è Maradona bravo però non diciamo ancora sono andato con Maradona mio padre mio padre è napoletano io sono andato io ero un tifoso del Napoli poi quando Maradona è andato io da Napoli ovviamente ho dovuto ho cambiato squadra e poi ho trovato ho trovato un altro idolo adesso che è TTR Daniele De Rossi ah ok io sono un romanista quindi fresco fresco praticamente tatuato sul mio braccio quindi essendo della Roma tutti quanti poi questo Antonio Collone fa la differenza tutti quanti era facile di totti totti per me il capitano è sempre stato Daniele l'intervista adesso va comunque va fatta a vedere prima che lo esonerano perché se no no speriamo da no senti Antò vorrei ritorno un attimo quando eri piccolo vorrei da un canale di Tascalia all'intervista il rapporto con i genitori tuoi da piccolo come è stato vorrei capire Antonio De Vallone perché è diventato Antonio Vallone oggi ma io avevo una famiglia avevo una famiglia bellissima e mio padre lavorava mia madre stava a casa con noi mio padre lavorava fino alle due faceva i mercati quindi io dalle due in poi stavo con lui e con lui giocavo mercati di cosa? mercati di cosa? settimanali e giovedì lui vendeva abbigliamento intimo quindi faceva tutto ogni giorno cambiava cambiava un paese sempre qua intorno e io il pomeriggio giocavo a pallone con lui sempre qua fuori la strada lui stava sempre con me mi accompagnava lo sport con le macchinette con le macchinette telecomandate ci giocavo tantissimo poi nella vita succedono gli imprevisti quando giochi al gioco del log al gioco della vita prendi la carta imprevista la carta imprevista e mio padre e mio padre si lascia quanti anni avevi tu? io avevo 17 18 anni ne hai sofferto tanto per questa separazione? ho sofferto sì perché comunque era un periodo importante nella mia vita ho appena iniziato l'università quindi mi stavo lanciando e avevo la famiglia forte alle spalle perché a parte prima ho fatto la battuta ricco non ricco ma non ero ricco ma non mi è mai mancato niente cioè mio padre non mi faceva mai mancare niente e forse questo qua è stato proprio l'errore più grande che ha fatto perché poi a livello economico non ti ha fatto mancare niente a livello economico ma anche a livello affettivo era ovvio però a livello economico non mi ha mai fatto mancare niente nonostante non è che fosse la mia una famiglia ricchissima però lui comunque faceva lavorava faceva i mercati e si guadagnava bene all'epoca poi l'errore suo più grande è stato proprio quello che magari non capendo che le cose stavano cambiando con l'euro così è non si è saputate qua non si è saputate qua al cambiamento e magari le cose sono andate un pochettino più male e là c'è stato là c'è stato il crack della tra virgolette della sua della sua azienda il rapporto invece con tua madre ti stava tanto appresso come al tuo padre o eri più legato a lui ero molto più legato a lui rispetto a mia madre infatti quando loro si sono separati io ho provato a riportare mio padre a casa facendo a riunirli facendo l'errore perché poi ho capito che comunque tra moglie e marito è finito vabbè il classico detto tra moglie e marito non mi sceglie ti ho letto il dito ma non c'è ho provato come figlio a riprovare a unire i genitori perché comunque eravamo una bella famiglia poi vedi mio padre che dormiva sul divano mio padre che dormiva nel letto mio padre che mangiava da solo questa fase di transizione quanto è durata a casa? io faccio po' cazzotti con le date però un pochettino c'è stato qualche qualche mese c'era già un contesto negativo a casa sì 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 qualche mese è durato ma sai perché non sono quelle coppie che si lasciano per un tratimento no le coppie che si lasciano per cose non dette ma cose non dette sul lavoro tipo tasse non pagate bollette non pagate perché per sempre farti sta bene bugia a fin di bene diciamo come figlio esatto come figlio e quindi là c'è stato c'è stato i problemi quando poi è venuto tutto a galla ecco perché il discorso famiglia poi cerca di essere più limpidi possibili con la famiglia mio padre è un errore un errore grave ha fatto è stato quello di non chiedere aiuto ma non ha mai chiesto aiuto perché se avesse chiesto aiuto a me anche qualche mese prima di morire forse magari ce l'avrebbe fatta e invece ha continuato con il suo orgoglio fino all'ultimo respiro quindi e tu hai fratelli se non sbaglio giusto Antò? fratello e una sorella si e siete stati molto uniti durante il divorzio nel senso vi siete fatti forza uno con l'altro diciamo che loro erano molto più piccoli di me quindi hanno vissuto un po' diversamente rispetto a me io con mia sorella ci portiamo 13 anni e io con mio fratello 5 e poi diciamo che anche loro si è dovuta rivedere da soli con mia madre che si è dovuta rimboccare le maniche da non fare da non lavorare si è dovuta trovare un lavoro e il lavoro più facile per una che non ha mai lavorato era quello di andare a fare pulizie quindi è iniziato così a fare oggi sono ben pagate tra soli è quella che viene da me ma no ma adesso sono ben pagate non è quella che viene da me così è vero sulla mia pelle dalla regia vedo alcune frecciatine ascolta il rapporto con tuo fratello da piccolo invece tra di voi lasciando perdere papà mamma tra di voi tra di noi il rapporto era quello ti possono raccontare mille episodi nel senso che giocavamo con la playstation o siga megadrive forse ma io lo ricordo forse Bruno no ma io lo ricordo la playstation il siga megadrive prendeva un sacco di botte perché comunque i giochi quelli che ci venavamo poi diventava 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 vera la cosa arriva mia madre ce la sequestrava questa cosa ce la metteva nell'armadio e poi noi giocavamo giocavamo insieme si ricordo più bello che c'è con tuo fratello da bambino mi ricordo il più bello di me ricordo delle botte ci siamo sempre sempre ammazzati delle botte ma nel senso per divertirci giocavamo giocavamo sul letto c'è il senso come i cuccioli di tigre che si si rotolano e noi così ci buttavamo sul divano i fratelli che si ammazzano di botte fa troppo figo questa cosa è sintomo di bene esatto c'è mancanza di bene perché c'è indifferenza sai che mia moglie questa cosa non l'ha mai capita perché lei che col fratello non lo faceva noi ascoltavamo le canzoni e cantavamo infatti mio fratello ci menavamo per noi era quello il modo di dimostrarci come tutte le famiglie unite oggi se ti fai male ti portano al pronto soccorso al minimografio ma no all'ospedale di Terecina ti sei fatto male da bambino quindi devi andare o fuori o il bambino Gesù capito parla della tua generazione e invece se mi facevo male io avevo quasi paura di dire che mi ero fatto male quindi però è stata è stata bella mi ricordo la mia infanzia come piena di sport cioè la di programmazione io dici perché perché la programmazione perché io decidevo che il lunedì dovevo prendere la bici e andare su Monteggiove martedì fa calcio ma c'era 11 anni però andato su Monteggiove mi avevano regalato la comunione la mountain bike col cronometro era troppo figo perché tu vedevi i chilometri che avevi fatto e io tornavo e mi appuntavo lunedì era piccolino si metteva sopra la bici lunedì che costavano ai tempi sì mi ricordo che mi avevano fatto sto regalo che costava 50-60 mila lire 80 mila lire costavano un settembre alle lire sì e sta bicicletta segnavo tutti i chilometri che avevo fatto e da là secondo me è nato Antonio con noi perché comunque il discorso dello sport della programmazione dell'organizzazione è sempre stata qualcosa di perché poi ci dicevo agli amici coinvolgevo vieni a correre con me perché ma corre ah facendo questo da solo eh sì da solo da solo da solo da solo tranne ovviamente le partite di calcio che quelle le iniziavi e ne finivi mai la famosa partita di calcio tra amici a noi finiva quando mamma strillava dal balcone oh è pronto oppure era a buio oppure arrivava la vecchietta che ti squartava il pallone fino alla fine perché gliel'avevi mandato gliel'avevi mandato per l'edizione alla fine è un po' sangue juventino però infatti fino alla fine non ho commentato senti quindi ad oggi di Antonio Vallone Piccolo che ti porti lo sport eh ti ho detto lo sport anche se per un periodo mi era balenata l'idea di diventare magistrato e perché le mani pulite di Pietro così quando ti sei accorto che era una cazzata quando ho detto quando ho detto che secondo me non era proprio la vita mia l'altra cosa che mi piaceva fare era l'infermiere perché comunque dentro la famiglia di mia madre c'era mio zio che faceva l'infermiere però se tu mi parli di sangue di partori soprattutto avevano ferma di catetere e se cose così mi vengono i brividi quindi il catetere a me mi mette una paura tu non puoi capire mi mette una paura il catetere domanda ignorante ma è cos'è il catetere davvero non lo sai non sospendere mettiamo pausa tagliamo questo è il catetere come lo spieghiamo in parole povere ecco questo tubicino qua ti viene infilato nel pisino ah ok per fare la pipì in una sacca perché probabilmente ti puoi muovere io non l'avevo mai non l'avevo mai messo mai avuto il catetere mi sono operato di calcoli renali bravo mi sono operato di calcoli renali e probabilmente entra un infermiere poi dentro 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 la stanza mia l'infermiere era un po' si può dire un po' un po' fluido no? già da come già da come parlava ciao allora come stai? gli ho fatto bene adesso togliamo il catetere gli ho fatto che? ho preso un colpo ecco un attimo l'ha tolto non è proprio una sensazione piacevolissima quindi ecco perché poi vorrei staccare le riprese per cinque minuti non ho voluto fare l'infermiere non ho più fatto l'infermiere per quello anche se mi piace quel mondo mi piace però se le ferite le cose quindi ho detto un saluto a tutti gli infermieri d'Italia è un lavoro veramente difficile tanta pazienza devi avere tant'amore sono tutti i lavori sono difficili però qualcuno ha qualche lavoro in particolare devi avere proprio una passione e una vocazione per farli perché altrimenti non ci riesci forse è più vocazione bravo una vocazione ci vuoi vero vero atletico in prima squadra fino alla serie D ah è arrivato fino che sarebbe no la serie C cosa bella che ho iniziato il tirocinio qua a Terracina infatti come si diventa allenatore eh ma so che bisogna avere vari patentini puoi partire anche come ho fatto io dall'università che poi l'università attraverso il tirocinio formativo mi ho portato al calcio perché era quello che volevo fare e la cosa figa è che è stata avevo mi sembra un mese di tirocinio non retribuito e la società invece mi ha pagato lo stesso perché mi ha detto sei bravo ti paghiamo e quindi mi hanno dato lo stesso soldi e da là poi mi hanno dato la squadra ma gente quando io ho iniziato avevo 21 anni quando ho iniziato ad allenare i ragazzini poi la sfortuna mia nel calcio è che io ho voluto allenare solo a Terracina perché mi hanno chiamato per scelta per scelta sì perché sono tifoso del Terracina malato per il Terracina fosse oggi ho fatto tante fosse oggi è difficile è difficile come andrà perché comunque lo sai qual è il problema del calcio che il calcio a questi livelli qua non ci campi quindi quando io ho lasciato il calcio l'ho lasciato semplicemente perché avevo come dicevo prima delle spese da pagare non avevo un riscontro economico non c'era se il calcio pagasse bene anche a livelli un po' più bassi come in questo stato io nei dilettanti ti poteva permettere di fare ma non puoi fare il professionista nei dilettanti quindi devi in forza fare altri lavori per fare altri lavori sia dalla parte dell'allenatore che dai calciatori penso questo è uguale il calciatore magari è sempre un po' più fortunato perché magari la società ci spende un po' di più la società spende un po' di più poi si deve spendere dei soldi per il fisioterapista per il preparatore atletico diciamo che sono sempre figure che vengono messe un po' in secondo piano ma oggi se vai in serie A e conti quante persone stanno all'interno di uno staff ti rendi conto che lo staff è la parte più importante nel calcio poi ovviamente non vinci se non hai giocatori forti puoi avere un staff bravissimo ma servono sempre un po' come spendere risorse per se stessi tanti non come si dice non investono nelle proprie risorse nelle proprie competenze perché sembra quasi dice vabbè ma tanto lo so ma tanto leggo ma tanto questo ma tanto quello e invece poi alla fine vai a vedere sono proprio le competenze che uno ha che ti porta questo è il discorso che la domanda mi hai fatto prima chi è Antonio Pollonoggi Antonio Pollonoggi è una persona che ancora non si ferma e magari continua ancora oggi a fare degli investimenti sulla propria persona perché la ritengo una cosa una cosa fondamentale ma ci devi credere cioè la cosa fondamentale è che devi credere come prima di tutto su te stesso e poi su quello che in realtà vuoi fare e stai facendo perché altrimenti non cioè se puoi fare tutti gli investimenti che vuoi ma se non se non hai quella fame io ho smesso nel calcio proprio perché con tutta la passione che avevo e con tutto che ci credevo alla fine sei costretto cioè ti mettono un muro davanti che sei costretto e ti dico ok basta perché non ci campo cioè è tutto bello è tutto guidato dalla passione dalla vocazione però alla fine arrivano le bollette il mutuo la macchina e tu dici ok ma ma poi ti dice tutto bello quello che si fa è anche figo perché mi sentivo fighissimo andare in giro la domenica con la tuta del terracina scende in campo i tifosi il coro dei tifosi le bandiere è bello cioè quello è una cosa che tu cazzi sono passato da quello 3.000 persone dentro lo stadio sono passato da 3.000 persone dentro lo stadio da 3.000 persone dentro lo stadio a fare personal trainer uno a uno dentro uno studio quindi quello ti fa capire che passaggio ho dovuto ho dovuto fare ho dovuto fare io e quella cosa là poi mi è sempre mancata mi è mancato lo staff mi è mancato lo spogliatoio e poi nel crescere come personal trainer sto cercando di ricostruire quello che avevo nel calcio che era lo staff il team ancora non ci sei? ci stiamo ma dobbiamo crescere dobbiamo crescere ancora va bene lui è fortunato perché ciò mi ha avuto io nella sua crescita personale pensa quanto crescerò quando te ne andrai mamma il bello ce l'ho fatta il bello è proprio quello che non bisogna mai mai pensare di crescere di crescere da soli perché se poi diventa veramente forte da solo è veramente veramente difficile bisogna starci una squadra attorno se riesci a creare una squadra forte è meglio una squadra forte ti permette di fare tante cose ma lo sai la cosa più bella di avere una squadra forte la condivisione delle idee perché io posso dire che sono più forte di tutti ma sto da solo dentro lo studio quindi come se qua c'era soltanto uno e diceva questo è il più forte a tagliare i capelli invece quando ti confronti con gli altri magari c'è la tecnica tu guardi io nella mia crescita personale ho appreso tantissimo dalle persone che mi sono state attorno mi sono state vicino ma apprendere non significa apprendere solo cose positive apprendere anche le cose negative cioè quello che lui faceva per me non andava mai fatto e io ci sono alcune cose dei miei colleghi che io ho visto e non l'ho mai riportate né nella mia struttura né come approccio si apprende anche nel male l'importante è essere delle calamite cerca di catturare più possibile poi fai una selezione delle cose che ti servono e delle cose che non ti servono fino a che poi fai una scelta e cerchi cerchi di emergere però se pensi di non affiancarti mai a nessuno quello non lo so cioè se tu oggi mi fai la domanda per te è stato importante nel mondo dello sport lo staff i collaboratori è sì perché quello mi ha permesso di crescere tantissimo perché io avevo nella squadra eravamo due preparatori atletici quindi c'era il preparatore dei portieri c'era il mister c'era il fisioterapista e quello era il team che ti permetteva di crescere quindi quando quando tu c'hai un confronto a meno che non ti trovi non ti trovi un mister che non ti fa non ti fa muovere non ti fa parlare non ti fa ragionare non ti non gli interessano le tue idee ma quello poi significa essere sfortunato e là ovviamente devi lasciare tanto c'ho un'idea io no del tipo del calcio praticamente quando vedo che ci sono tante persone nello staff mister allenatore in seconda fisioterapista questo e quell'altro riescono tutti quanti ad avere veramente un rapporto con i calciatori stretto allora con i calciatori difficilmente riesci ad avere un rapporto perché comunque mi faccio sempre questa domanda ma non la riesco quando hai una risposta io te lo dico alla fine ho lavorato tanto con i calciatori ma il calciatore viene a fare il suo lavoro mentre come si dice sono mercenari perché alla fine fanno il loro lavoro sono retribuiti e se ne vanno a volte con lo staff non diretto quindi non con il mister non con il preparatore ma con i fisioterapisti loro manco manco sanno i nomi perché nei giocatori di serie A di serie A che stanno sul lettino a farsi massaggiare dal terapista loro gli interessa che il terapista fa il suo lavoro quindi gli fa la terapia loro stanno al telefonino Spalletti in intervista di ieri ha detto che lui non vuole più giocatori che stanno al telefonino mentre si fanno massaggi e terapie perché perché proprio cerca di costruire un rapporto un rapporto umano noi quando stavamo nello spogliatoio del Terracina e arrivava a dicembre che i giocatori se ne dovevano andare perché qualcuno cambiava casacca noi ci stavamo male perché comunque con i giocatori essendo in 3-4 ci vivi tanto cioè ci stai tanto insieme ma veramente si crea si crea un bel rapporto di amicizia e nel calcio nel calcio che è quello che ho fatto io noi siamo riusciti a vincere perché eravamo una squadra forte ma eravamo un gruppo un gruppo bello con una famiglia si vede la differenza poi in campo quando c'è il rapporto dietro noi oggi ancora abbiamo il gruppo Whatsapp di quel Terracina che ha vinto quanti anni sono passati? quindi sono 11 anni se il Terracina ti chiamasse per dargli una mano andresti subito là ci vai anche gratis perché a oggi che comunque sono donate sto scherzando gratis se non ci vengo a oggi che comunque sono affermato e comunque ho uno studio che va avanti anche senza la figura di Antonio Vallone mi potrei staccare anche qualche ora per lavorarlo dedicare un po' lo farei perché comunque non gratis ripetiamo mai se lo soppersi prima però l'ho fatto anche gratis per gli amatori terza categoria ho fatto mi era ripetuta la voglia di allenare e sono andato allenare la squadra di terza categoria ma perché proprio per il discorso di passione però poi dici ma chi te lo fa fare perché finivi di lavorare alle 8 di sera dovevi mettere un'altra di scarpini la tuta d'inverno sotto l'acqua così andavi là un attimo ti rigeneravi però quando arrivavi al campo vedevi che i giocatori non erano proprio contentissimi di vederti perché arrivava il preparatore atletico e quello che ti fa correre in realtà il mio modo di allenare non era proprio quello il mio modo di allenare è proprio quello di avere la palla al piede di farli correre con il pallone di farli divertire perché nel calcio ma in qualsiasi tipo di lavoro ti devi divertire io quello che ho sempre detto a mia moglie e poi ho fatto lasciare anche il suo di lavoro un lavoro ben retribuito che il padre gli aveva trovato gli ho fatto lasciare semplicemente perché ogni mattina si alzava e diceva che palle devo andare a lavorare quando dici che palle devi andare a lavorare devi lasciare devi lasciare il lavoro se tu invece dici è domenica bello tra le sette e mezza vado a lavorare domani mattina cioè ritorno a fare quello che mi piace questa è la cosa bella che a volte uno dice certe cose le riesci le fai anche gratis e chi ha un lavoro tipo come mia moglie che ha un lavoro dove aveva le ferie la malattia le cose un lavoro pagato che lei chiudeva la porta e non doveva non doveva pensare al lavoro io prima di venire qua da voi stavo a casa e stavo a lavorare stavo a programmare tutta la settimana la settimana che viene quindi le schede le cose diceva lo fai di domenica sì lo faccio di domenica perché perché sto libero ma io domenica scorsa non ne stavo a Roma cioè stavo a Roma sabato e domenica me la sono passata a Roma però quando sto qua e sto a casa alla fine voglio voglio anticiparmi il lavoro ma non mi pesa cioè non mi pesa ti lascia il pieno di lavorare questa è una cosa il tuo anticiparmi il lavoro che ti dico io come me lo vivo oggi voglio capire se per te è simile al di là di tutte le cose che mi dicono da fuori va bene che sono veri io mi vivo la mia vita privata un po' mischiata con il lavoro ma no perché mi porto i problemi a casa del lavoro perché a volte nel bel mezzo della giornata magari ho un'idea durante il pranzo me la segno o chiamo o faccio questo però non è che un io dico sto lavorando capito cioè a volte vado a Roma per piacere mi ricordo che devo passare in un negozio io vado in quel negozio ma non la vedo come se togliessi tempo alla mia vita privata cerco di vivermi tutto in equilibrio sulla stessa linea però portando avanti sia magari una relazione magari portando gli affetti avanti capito non mi vivo il lavoro come le mie ore lavorative mi vivo il lavoro come parte della vita io la vedo un po' così cioè quella è la felicità io ad oggi mi sento se io dovessi pensare il lavoro come le ore mie lavorative cioè sono 24 cioè al giorno perché comunque io penso al lavoro per 24 ore al giorno a volte manco manco dormo come hai detto tu poi io a volte mi ci ritrovo con le persone magari senza nemmeno conoscerle bene mi ci ritrovo perché fanno ragionano come ragiono ragiono io quindi quando quando una persona mi dice io mi segno le cose io a volte sto a dormire magari adesso quando dormi ti sei girato da un lato ti sei girato da un altro boom ti arriva un'idea io apro il telefono sulle note apro il telefono sulle note mi segno quell'idea che mi è venuta sai che problema c'ho io che le migliori idee mi vengono in doccia è un problema che non mi posso portare il telefono e io invece le migliori idee mi vengono quando corro quando vado a correre spengo il telefono ma puoi entrare sei un bel ragazzo a te quando vengono le migliori idee cioè se ti vengono delle migliori idee quando fa l'amore vuoi due secondi in là sottolineiamo due grazie no tipo a me mi fa ride è capace tipo se ne esce lui caccia qualche idea bella così non mi viene in mente niente poi quando non servono più mi escono là le idee più belle la tua utilità ma infatti infatti il un po' di applausi applauso questo perfetto te lo faccio io vai vuoi un caffè vuoi un caffè pausa caffè no non è pausa caffè per tre dai vai ci sto ci sto anche alla regia perché se no dico ma noi aiutiamo solo anche alla regia dove eramo rimasti stavo parlando del discorso le ore le ore relative e la vita e la vita privata no la devi avere la fortuna capite di di trovarti una nella vita privata persone che riescono a capire la tua vita lavorativa e quello è una cosa una cosa difficile no perché quando tu vivi per per il lavoro devi avere persone che sono disposte anche a capirti perché la veramente si può si può fa tilt con con la con la famiglia no quindi la cosa più bella ti faccio far analizzata lo sai qual è mia mamma che ancora ad oggi mi dice ma tu non lavori mai ma veramente questo lo dico pure quando vengo a farmi capelli qua vabbè non senti tutti lo dico magari magari la mamma è quella che ti dovrebbe dire vabbè dai meno male che comunque no invece mia mamma si accoda gli altri forse è il capo proprio il capo portabandiera che dice che non faccio niente anche il lavoro mio viene visto così che ridi e corri no sì bravo è un lavoro il dipendente del comune quando sono andato a fare la carta di entità mi scrive professione personal trainer mi fa no per lavoro no vabbè ci no per lavoro è bellissimo ammazza per lavoro infatti faccio personal trainer guadagno un pochettino più di te quindi lo puoi scrivere personal trainer ah proprio così ci hai detto lo so fatto scrivere sulla carta e intirà personal trainer e questo ti ha detto tua madre anche la mia socia la mamma gli ha detto così ma quando tu trovi un lavoro perché per lei il lavoro era fa la cassiera al conad quindi lei lavorava lavorava al conad quando ho portato a lavorare con me e diceva no ma ti ritrovo al lavoro mo invece ha capito che il lavoro è quando guadagni e poi quando è una cosa tua è diversa quindi il lavoro deve essere retribuito retribuito bene e poi se ti riesci a divertire quando lavori hai fatto bingo poi se pensi 24 su 24 al lavoro e sei sempre a pensare al lavoro quello non fa niente dovrebbero divertire tutti al lavoro a volte anche se un lavoro non ti piace perché non tutti hanno la fortuna purtroppo di fare quello che vorrebbero nella vita io penso che però un ambiente lavorativo bello e sano non ci possa essere ovunque nel lavoro più brutto cioè io ho conosciuto persone che magari fanno l'edilizia per me l'edilizia io non la farei mai per quanto è bello costruire eccetera è dura a volte faccio le cose però tu immagina quella cosa là e ti vedi una casa da zero e ti cresce e l'hai fatta tu è bellissimo ma se ci sta pure il contesto con cui ti diverti ti fai due risate con gente che comunque è simpatica che comunque ti riprende giusto per darti esperienza i muratori ti divertono una cifra per loro tra una birra e l'altra è un panino di mortadella certi panini grazie cosa fighissima dove ti riverti grazie a dare già per il caffè personal trainer prende lo zucchero no assolutamente cioè sarebbe una vergogna oggi prendere lo zucchero ah quindi quelli seri non lo prendono ok è davvero napoletano metto un po' d'acqua nel caffè mamma mia davvero napoletano anto io ti volevo chiedere ma c'è il caffè in ghiaccio giù in Puglia e il caffè in acqua annacquato ti volevo chiedere ma voglio essere un attimo un po' serio ma non ci riesco ma il ricordo più elettrizzante e felice da allenatore devi fare forza di cioè ah 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 il ricordo più bello da allenatore ovviamente ce l'ho tatuato sul polpaccio destro e quando abbiamo vinto il Terracina quindi dalla serie dall'eccellenza siamo andati in serie D quella è stata una cavalcata bellissima perché non abbiamo vinto il campionato per per motivi che ancora oggi il Terracina sta pagando per motivi politici ma siamo arrivati i secondi poi siamo andati a fare playoff quindi la fase nazionale playoff abbiamo girato con Reggio bla 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 poi quando abbiamo vinto qua con la San Giovannese è stata festa grande e io quella quella data me la so segnata sul polpaccio con lo striscione che stava in curva onde alte millepiedi non ci abbassano la testa che poi non stava in curva ma stava nella famosa curva cannucce perché la curva perché la curva era chiusa quindi quella è stata l'esperienza più bella dal punto di vista dal punto di vista calcistico poi il calcio me la regalate tantissime veramente tante 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 emozioni però le emozioni del calcio le erano sempre legate alla vittoria perché una domenica calcistica con una sconfitta per me che so che vivo il calcio in maniera passionale io tornavo a casa e mi mettevo a dormire quindi era sempre legata al concetto di di vittoria e quindi per vincere si faceva si facevate tutto pur a botte è successo anche se per la partita l'anno non abbiamo non abbiamo vinto nel calcio purtroppo succedono cose che non vanno fatte però sono divertenti se ancora oggi me ne ricordo e mi fanno ridere perché sono cose che succedono ci stai riferendo a un particolare no sono cose che succedono soltanto in un determinato ambiente nel contesto nel contesto calcio ne sono successe tante se ne vogliamo raccontare una la più bella la più bella è stata quando con il Gaeta la partita finisce la partita finisce male per noi perché volevamo per forza per forza vincere e quindi poi il presidente del Gaeta ha provato dentro lo spogliatoio era una partita molto tesa quindi poi il presidente del Gaeta ha provato ad entrare dentro gli spogliatoi e ci avete presente il butta perché volevano entrare dentro perché noi così non lo so c'è una cosa un po' un po' prepotenti quindi essere i dirigenti per forza non entrava ma gli spogliatoi entravano soltanto i tesserati quindi quelli che stanno in lista e ci avete presente come si fa in discoteca ci stai il buttafuori da davanti e io mi sono trovato la fa e buttafuori e buttafuori quando tu vuoi entrare per forza lui non ti fa non ti fa entrare e magari ti allunga un attimino per te oppure ti accompagna gentilmente è successo è successo è successo qua è accompagnato gentilmente è accompagnato gentilmente alla porta saluto il presidente Belalba poi lui non se l'è vista non se l'è vista bene voraccio perché poi è andata no no con me la sua la sua carriera non è andata bene perché poi il Gaeta è andato male però io passeggiando per Gaeta la figlia ancora si ricordava di me e mentre passeggiavo a vedere le luminarie di Gaeta guardavo destra e sinistra mi sento di ballone io mi giro si non ti ricordi di me sono Belalba e hai fatto ah e quindi già la conoscevi quando era più piccola ai tempi si si perché anche lei era tipo presidente vicepresidente era tutta una stirpe quindi la dinastia che poi c'era una macelleria ho capito poi come sono collegati ho capito come faceva una squadra una società di calcio poi ho capito infatti è andata a finire in galera però vabbè stavia finita male era finita a loro era tutto a posto era tutto a posto che è stata la persona più importante per te nell'ambito lavorativo non parlo di idoli parlo proprio che ti ha aiutato nel tuo lavoro nel mio lavoro ovviamente Americo Fusco che ho lavorato 17 anni nella palestra terzo millennio e poi ho incontrato Simone Massaro nel mio percorso nel 2017 che lui mi ha dato una svolta ma proprio a livello di mentalità Simone Massaro è l'ideatore era è l'ideatore di Street Workout purtroppo adesso non c'è più da tre anni e lui mi ha dato una svolta a livello di capacità imprenditoriale guarda caso l'ho conosciuto nel 2017 che è un anno che è di svolta proprio nella mia vita l'ho conosciuto il giorno della festa della festa del papà era il 19 marzo 2017 e poi ad aprile mi ha permesso di fare il primo evento di Street Workout con lui come ci siamo conosciuti poi magari qua ne parleremo l'utilizzo di social con lui ci siamo conosciuti grazie ai social quindi per me queste due persone qua mi hanno insegnato tantissimo perché poi nel calcio se ti devo dire chi mi ha insegnato tanto oppure uno a cui mi ispiravo c'è avuto tantissime persone a cui ho voluto bene nel calcio però nessuno di loro mi ha insegnato invece Amerigo con la palestra che poi con lui ha avuto una palestra in società è uno di quelli che ci ho cresciuto insieme mi ha fatto crescere mi ha preso a 21 anni e ci siamo lasciati a 37 anni quando gli ho detto che non avrei più lavorato lì ti ho detto che è stata è stata una fatica perché quei lavori che avrei continuato a fare non li lascerei mai per l'ambiente per il rapporto lui e compare il mio de matrimonio e tutto però avevo capito che era arrivato il momento di staccarsi di staccarsi un pochettino se io quella scelta l'avessi fatta prima di sicuro il processo di crescita di Antonio Mallone oggi sarebbe sicuramente diverso perché io stavo stavo attaccato sono stato attaccato là che è come quando Zaloni diceva il posto fisso per me quello era l'ancora era la sicurezza con tutto che guadagnava il rapporto c'hai adesso ad oggi buon rapporto mi dispiace che non ci vediamo che non ci vediamo spesso questa è l'eccezione no no abbiamo un buon rapporto poi non si dice non si dice ci siamo incontrati pure ieri perché i nostri figli giocano a basket a basket insieme quindi poi ecco la cosa che mi dispiace è che comunque anche perché non siamo per fortuna non siamo concorrenti perché lui c'è una palestra e c'è uno studio personal che a livello di che a livello di non siamo concorrenti semplicemente perché a livello di prezzi ma parliamo di sta concorrenza io sono stanco di parlare di concorrenza ma quale cazzo di concorrenza ci deve stare se ognuno fa il suo allora cioè è impossibile pensare di stare su un territorio da soli è impossibile non stai per di viva la concorrenza su questo viva anche se è sana sì se è sana sì ma a te quante persone te bastano per lavorare io quello che bastano mai metto sedi ovunque io dico io dico sempre che a me bastano 100 persone cioè 100 persone e campo proprio alla grande no tu consideri a me vengono persone da Priverno ad allenarsi da me da Montesan Biaggio qualcuna viene da Fondi vengono da Sabaudia vengono da San Felice Borgo Montenero e da Terracina tutto questo comprensorio qua non arriviamo a 100.000 persone penso che ci arriviamo già su Terracina 55.000 io di 100.000 persone a me me ne bastano 100 pensa io andavo a farmi capire da un tuo da un tuo collega eh tanto tempo fa bravo no da un competitor da un mio collega da un tuo collega da un tuo collega tanto tempo fa quando a me non faccio niente però eh quando quando entravo questo diceva diceva il locale era pieno di donne perché lui faceva pure donne lui entravo e lui mi faceva oh eccolo il personal 3 numero 1 a Terracina no quello e diceva i nomi di questo qua non ci sono andato più ma semplicemente perché poi quelle là uscivano da quel locale e andavano da quello lo sai che è venuto Antonio Vallone ed è capace dicendo che eri tu che dicevi quella cosa manca di che dicevano che era lui ma io cioè per me ognuno fa il lavoro suo e il problema degli eventi street workout quando abbiamo fatto gli eventi street workout e dicevo la cosa di creare staff di creare team di creare tutti insieme io li andavo a coinvolgere tutti quanti li ho sempre chiamati tutti quanti a venire a fare gli eventi come perché perché era una cosa aggregativa era una cosa bella per la città e con street workout abbiamo fatto abbiamo regalato anche giochi importanti valori di 3-4 mila euro a parchi che stanno nella città e nel parco ci sta scritto street workout non è che ci sta scritto Antonio Vallone cioè se volevo far il figo scrivevo Antonio Vallone il nostro street workout perché comunque tra virgolette ti al culo ma lo so fatto io perché le persone le andavo a cercare io per venire lo staff l'ho dovuto creare io street workout è l'azienda che conosco io quindi diciamo l'ho portato l'ho portato io qua se volevo far il figo lo facevo ma me ne stavo sempre non ti dico in disparte ma mi mettevo sempre in linea con tutti quanti gli altri mai un passo avanti e mai un passo indietro quando li chiamavo tutti quanti insieme perché l'abbiamo fatto insieme li taggavo sempre tutti quanti quindi non ci ho mai avuto stanzia del confronto è una cosa che mi dispiace perché poi quando ci incontriamo persone che non ci credo quando mi dicono un cliente mi dicono quello che parlava male non ci voglio credere perché comunque ho sempre la cosa che i clienti o capiscono male o rapportano male quindi non mi fido di loro a volte ne manco cattiveria a volte si fa tanto per parlare magari fanno la battuta ma a me non mi fanno una cosa stupida diventa gigante io non ho la pretesa di allenare tutti ma è possibile e nemmeno tutti per sempre ok quindi dico tempo alle persone alle persone fanno un percorso con me poi o non vuoi cambiare è giusto cioè io ad esempio la pizza mi avevo a mangiare sempre la stessa parte lo spaghetto alle mongole non vado sempre ma non è una cattiveria non è perché non ce l'andare esatto anche se va tutto bene a volte c'è solo bisogno semplicemente di cambiare esatto e poi magari ti ritornano la cosa bella è che ti ritornano quando mi è ritornata una cliente dopo un po' stasettimana qua la settimana scorsa mi ha detto se mi vedevi da un altro ha detto a te ti dava fastidio no non mi ha detto ti dava in culo e io gli ho detto no eh dai è vero no quasi cicotono eh sì ho detto no ma infatti so così ma perché ti devo dire sì che mi dava fastidio non mi dava fastidio ma semplicemente perché è giusto così mi piace che sei tornata da me dopo tanti anni ma tu negli anni comunque hai fatto un percorso lo sai qual è l'errore di alcuni colleghi che fanno che ehm se ti alleni da loro e poi vanno te ne vai quando ti incontrano per strada non ti salutano più e quindi quella cosa lì quella cosa lì me lo loro me lo raccontano lo sai che ho incontrato il datore l'ho incontrato la palestra dove ci andavo prima il proprietario oppure l'istruttore non mi ha salutato ma quella è una cosa pessima cioè io invece quando li incontro quando li incontro addirittura quelli che mi danno dai soldi salutiamo quelli che mi danno dai soldi domani arriverà un messaggino l'ho preparato oggi il discorso è arriverà un messaggino di recupero credit però vabbè è lunedì partiamo con con un bel recupero credit zero scuse zero soldi era questa la preparazione della settimana esatto non so scherzato lo faccio vedere facciamo vedere recupero credit il messaggio lo preparo è vero ragazzi è vero è vero vero cavolo 225 euro abbiamo visto un minacchino è gente che poi si dimentica che magari si è allenata con me poi se ne vanno magari vacanza così allora uno gli manda un messaggio ciao come stai ti ricordi quindi ma che stiamo a dire a parte i soldi i competitor ah no il discorso dei competitor quello è brutto il discorso di non salutare poi le persone io invece quando li incontro per strada quando non saleno con me oppure il like tattico cioè gente che smette di seguirti io se tu non tenei più con me metti io metto il like oppure gli mando gli auguri oddio per me è così è normale perché io vedo proprio che c'è un ricambio certo se passi da 100 clienti a 90 a 80 a 70 c'è qualcosa che non vale il mio lavoro quindi il problema so io ma se io comunque resto sempre sempre là c'è comunque un ricambio di clienti è pure normale il ricambio in tutte le attività del mondo ma è anche bello lo sai che io quando inizio un cliente nuovo è stimolante perché allena una persona per otto anni è vero poi ti arriva la confidenza io ecco stasera devo andare a cena con una coppia di clienti è anche sbagliato però ormai c'è stato rapporto cioè li alleno da anni quindi andiamo a vedere le partite insieme così addirittura sono state in vacanza insieme quindi il personal è diverso perché il personal sa tutti i cavoli tuoi e di tutti quelli che ci sono intorno e di tutti quelli che ti rapportano capito quando tu hai detto ti portavi problemi a casa io prima facevo così mi portavo i problemi a casa poi ho smesso a parte pure quello del poi ho smesso di portarmi i problemi a casa perché io tornavo a casa e gli raccontavo a mia moglie lo sai che è così 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 ma quando le clienti incontrano Simone hanno fatto vabbè ma te l'ha detto Antonio no ma non ce l'ho detto ma perché devo parlare di te ma perché devo parlare che sei cicciona ma lo do metto a dire a casa e che non riesci a dimagrire cioè problemi tuoi oppure di come fai la cacca e di quante volte la fai non mi interessa cioè non lo dico oppure non ne parlo già è poco il tempo a casa come diciamo prima appunto bravo non ne parlo con la mia famiglia io faccio fatica a dire a mio figlio ciao come è andata oh come è andato oggi a scuola la risposta è bene abbastanza bene apposto apposto tutto bene senti invece progetti futuri c'hai già qualche idea? che una piccola cosa la so se si può dire il mio progetto futuro il libro delle scuse intanto che è una piccola cosa che però secondo me si si il progetto per diventare però quella è una cosa non parlo per forza a livello di introiti economici no no due cose carine che vorrei portare avanti ma quello proprio per il discorso di crescita di di alzare un attimo il livello no perché comunque è una cosa che mi piace perché poi non lo non l'ho portata avanti non la porto avanti sempre è un discorso di mancanza di tempo quindi progetti per il futuro uno sicuro è liberarmi liberarmi il tempo quindi avere più tempo per me che oggi che oggi non ho ma per fare questo sto cercando di costruire uno staff più forte che mi permette di attimino di rilassarmi un pochettino che poi è la parte la parte fondamentale e quel rilassarmi ovviamente non significa andarmene in vacanza e non lavorare ma venire a fare le interviste di podcast esatto di domenica tranquilli rilassarmi significa portare avanti quei due progetti che ho uno è il libro che si chiama zero scuse dove la parla proprio di Antonio Vallone da zero a come è cresciuto Antonio Vallone da zero a non so quando quel libro l'ho iniziato poi ho interrotto perché ne ho iniziato un altro che è quello sulla vita di Simone Massaro che sono i mesi che abbiamo passato insieme perché noi siamo conosciuti parlerai proprio di quel lasso di tempo sì i nostri 45 mesi insieme come è cambiata la fortuna di incontrare la persona giusta che poi l'hai incontrata per poco tempo ma per quel poco tempo l'ho incontrato sì ma lui mi ha fatto girare veramente l'Italia mi ha fatto fare eventi ovunque siamo andati da Ponza a Milano a Torino abbiamo fatto un evento dentro il cratere dell'Etna quindi le idee più folli ce le ha avute lui mi ha portato sempre con lui abbiamo fatto vacanze insieme siamo stati e lui che ti ha aiutato pure nel mondo social lui nel mondo social no nel mondo social c'è un'altra bella persona importante nella mia vita anzi due che vanno sempre sempre clienti che poi quando parli col cliente lui dice che fai nella vita lui faccio quando l'ascolti faccio questo così e tu vedi cosa gli puoi dare a quel cliente la due persone una poi è diventata manager in Macron azienda di abbigliamento e io ho fatto per un periodo testimonial dell'abbigliamento Macron quindi faccio il modello cioè loro mi mandavano gratis mi mandavano gratis un pacco di abbigliamento ogni mese e io gli dovevo fare semplicemente video video quanti anni fa questo? sempre nel 2016 2017 no 2017 2018 che sono gli anni in cui sono cominciati anche gli influencer sono arrivati dopo mi sa si un po' dopo e io là facevo i video con l'abbigliamento Macron e li trovi anche sul sito sul sito della Macron il discorso degli influencer questa maglia che che vedi a me una palestra una palestra mi ha chiamato per fare l'inaugurazione della palestra sua perché in quel momento là stavamo io e quello io ne conosco quello tutto tatuato il collo no un calciatore chi è? è l'influencer quello che si è rifatto pure la barba giusto? bravo Chioforo diciamo io e lui in questa inaugurazione della palestra e giravo sta vela per terracina con la faccia di questa la faccia mia e dovevo fare l'inaugurazione nella palestra questo per farti capire la concorrenza io ho fatto l'inaugurazione là e apparentemente spiegavo le macchine ecco perché c'ho la maglia la maglia Tecno Gym Faride perché comunque io poi le macchine non le uso sempre odiate però io sono andato là sono andato là a fare l'inaugurazione di questa palestra e un altro che mi ha aiutato tantissimo a livello di social è Vincenzo Mastro Battista che lui ha l'azienda Jungle Team e quando l'ho conosciuto io lui lavorava per un'altra azienda però nella sua mente lui gli piaceva il mondo il mondo social e infatti mi è diventato Vincenzo Mastro Battista mi è diventato Jungle Team e abbiamo avuto questa crescita insieme gli facciamo un saluto che è simpaticissimo e con lui con lui oggi sto con voi domenica prossima sabato prossimo altra intervista stavo con lui e già ci fai concorrenza con lui faccio una concorrenza con lui shooting fotografico shooting fotografico mi potevo far raccontare tanto no ah le cambiamo stavolta so che l'utilizzo dei social ti ha aiutato anche una raccolta fondi se ti va per me c'è sempre stata quell'idea che insieme si può era un po' lo slogan e e quando mio fratello ha avuto un problema un problema di salute grave noi abbiamo provato a girare un po' qui in Italia abbiamo capito che la situazione non si risolveva e bisognava andare in America ovviamente sempre il famoso discorso che mancano fondi eccetera eccetera io mi sono ingegnato perdonami visto che l'hai preso tu questo discorso si può dire di che problema parliamo io lo so però magari chi ci ascolta lo sa mio fratello ovviamente è un non vedente adesso ha un morbo di labor è una malattia rara cronico degenerativa quindi è grave è grave anche perché è rara quindi non è stata ancora studiata e sperimentata quindi Vincenzo Vincenzo parlando con Vincenzo di questa cosa ho detto come possiamo fare e a Vincenzo gli è venuta l'idea ovviamente del crowdfunding quindi abbiamo creato questa raccolta fondi sui social e vi dico che il giorno che è partita il partito del giorno è il compleanno di Emanuele quindi il 25 luglio io quel giorno ovviamente ho smesso di lavorare perché è andata a bomba cioè con un attimo appena è partita noi c'erano imposti come limite 20.000 euro da raggiungere in un mese abbiamo detto proviamoci ma siamo sicuri che non ci riusciamo invece praticamente noi abbiamo dovuto chiudere in 24 ore l'abbiamo chiusa perché abbiamo raggiunto i 20.000 euro sui social ma poi c'era gente che veniva a fare la fila fuori allo studio a portarmi la busta con i soldi questo è farvi capire quanto è importante quanto è importante poi quando si uniscono le persone io sabato scorso non c'è stavo e mi hanno detto che è caduta una macchina qua a Fiume a Terracina e questa ragazza ovviamente si è salvata tutto bene però ho letto un messaggio suo che diceva che lei è una macchina con tanti sacrifici non ce l'ha più la subito a me mi avevo subito a dire idea la sarebbe facile capito non l'ha fatta no non l'hanno fatta e non la conosco la ragazza tante volte per vergogna pure per me per me ho visto che comunque ho letto che comunque ha messo Liban e qualcuno la sta aiutando però se quel Liban viene pubblicizzato cioè 100 euro a testa con un attimo si ricompra la macchina quella ragazza ma tu per tutti quelli che stiamo neanche 100 euro a testa no capito però infatti a mio fratello sono arrivati i soldi io quando mi arrivava la notifica 5 euro 500 1000 arrivano giocatori perché poi Massimiliano Carlini che è amico conosce giocatori di serie arrivano bonifici così quindi è facile quando dici come farsi aiutare ti devi far aiutare cioè quando il discorso l'hai visto quando ho detto di mio padre che mio padre non si è fatto aiutare perché per vergogna non ha chiesto aiuto ma io quello che dico a tutti quanti cioè se avete un problema lo dovete dire perché se io non so qual è il problema c'è presente quando vieni a casa da tua moglie che hai fatto niente ha fatto sicuramente qualcosa capito però oggi è tanto forte la paura del giudizio capito purtroppo ma se ti devo dire il giudizio c'è stato anche nei confronti di Manuela e di quella raccolta fondi io sono dovuto andare a prendere una persona era più importante la salute di tuo fratello sono dovuto andare a prendere una persona che aveva dato 20 euro a ridargli i soldi indietro perché stava criticando quella raccolta fondi perché noi c'eravamo messo 20.000 euro ma quella raccolta fondi poi è andata avanti e gli amici di Manuela hanno deciso di fare anche delle maglie che la vendita la partita di calcio e questo cominciò a scrivere sui social ma non basta mai quanto volete guadagnare cioè guadagnare cioè con quei soldi mio fratello c'è andato a fare delle cure cioè quindi è normale che Peter quando tu ti metti sui social li prendi sempre si è aperto a tutto ma io infatti dico sempre magari ci stanno sotto le critiche perché vuol dire che poi ti seguono ti seguono i famosi haters che ti danno visibilità però poi quando la cosa tocca la malattia no? ti dici cioè tocca la malattia poi tocca il mio fratello è normale che fa scintilla e hai rischiato la vita sparisci cioè veramente persona cancellata io sono abituato a fare così ogni tanto metto qualche x sulle persone no? io ti voglio bene sono la persona più buona del mondo mi metto sempre a disposizione sono il primo che se dobbiamo fare una guerra sto a fianco tuo però se sbagli ti metto una croce sopra e quella croce non si cancella l'ho messa l'ho messa da varie persone e sono fatto così quindi sempre pronto ad aiutare come ti stavo dì di quella ragazza così che perché ho detto Mossa Porella è caduta la macchina nel fiume questa magari ha fatto tanti sacrifici per prendersi qua a Terracina tutti quanti scrive sui social U Porella magari vogliono fare un elogio a quei due che l'hanno salvata però magari lei il comune non ci pensa che magari ha perso la macchina che magari con quella macchina ci andava a lavorare quindi il discorso è sempre ritorniamo sempre al discorso di team se Terracina diventasse un team un gruppo una squadra noi veramente abbiamo una potenza purtroppo siamo così ci diamo un culo uno con l'altro alleno un ragazzo che ha aperto una barberia qua a Terracina l'ha aperta vicino a un altro e io ho detto non so perché Bruno cerca di nascondermi perché siamo una squadra lo so io ho detto che ti ha detto questo qua quando gli hai aperto vicino niente non mi parla il livello è questo ma vedi invece cazzo sarebbe mettiamoci d'accordo vogliamo collaborare tanto per esempio tu prendi l'estate qua non so se a te ti cambia qualcosa lavorativamente se lavorate più pure tu lavori di più ok prima quando c'era di fuori si prima quando c'era la palestra no in palestra d'estate se lavorate meno ma adesso col personal a me arrivano clienti da fuori ma gente che che mi contatta mentre già sei in autostrada grazie ai social a google io penso che nessuno è facile nessuno in ogni ambito riesce a servire tutti quelli che vengono è impossibile il migliore non può piacere a tutti e il peggiore non può non piacere a nessuno ma io perché io perché mi sono ritrovato che poi è stata la mia fortuna no in pandemia io lavoravo da solo nel 2020 poi ho cominciato a fare era questo qua se tu vedi adesso i ricordi di facebook di quattro anni fa io inizio a fare la formazione perché mi serviva mi serviva personale ma noi stavamo andando incontro a una pandemia e io ho cominciato a mettere una persona o due persone in pandemia avevo quattro persone le palestre chiuse io lavoravo all'aperto con un sacco con un sacco di gente perché all'aperto se poteva stare e al chiuso e al chiuso no io ero pronto già per lavorare all'aperto ero pronto per avere un canale un canale un sito per le lezioni online quindi ero già pronto quella cosa là mi ha permesso di crescere di crescere subito quindi il discorso del team dello staff è una cosa che va curata perché poi ti serve semplicemente a crescere altrimenti resti là resti tu tu da solo fermo nel tuo nel tuo locale così senza confrontarti mai con nessuno è la morte il confronto proprio no guardi tu è lo specchio e dicevo che sto forte oggi però poi quando inizi a collaborare con gli altri quando c'è la forza di dirtelo perché lo sai che dico sempre ai miei clienti che ogni tanto quando mi sento forte 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 quando mi sento figo quando mi sento bravo vado a fare corsi con Guido Bruscia e capisco che sono una pippa capisco che sono ignorante capisco che ho tanto ancora da imparare è una grande cosa lo sai e là capisci che veramente ti devi andare a confrontare con le altre persone perché se ti fai un corso con lui oppure una cena con lui inizi a parlare con lui capisci che madonna mia quanto sto lontano da essere veramente un top perché poi quando mi dico a Terracina dico sì a Terracina è facile essere bravo ok veramente mi interessa essere bravo a Terracina o chi veramente mi interessa essere dal servizio top ai miei clienti ok però se voglio essere bravo emerge devi essere uno di quelli forti a livello nazionale è difficilissimo non ci arrivi tutti quelli che vedo che hanno i 150 a 200.000 follower e fanno in continuazione i video io non mi fido tantissimo di quelle persone là perché poi quando me ci siedo a tavolino tu quanti clienti hai guarda i clienti ancora non lo so perché stiamo lavorando a un progetto abbiamo un'idea ho capito quanto guadagni no allora guadagno ok i followers i followers non vanno se quei followers diventano mila euro ok se no fai fatica e allora le persone magari restano a guarda quello no difficile molto difficile ti dico l'ultima cosa poi ti lascio andare che ci hai dedicato già quasi due ore due ore abbiamo è un'ora e mezza di registrazione più le pettinature ci stanno tante persone che ci stanno non sanno tutti quello che stiamo facendo io e Bruno ci stanno tante persone che ci stanno dicendo perché lo fate cosa ci guadagnate e oggi ti devo dire che mi ha sorpreso più della preintervista che non so se noi facciamo sempre una preintervista per comunque un attimino per schiarirci le idee per presentare il progetto di quello che è e ti ho detto che oggi ci sono rimasto ci sono rimasto in senso positivo ci sono rimasto male no ci sono rimasto in senso positivo perché c'è ancora qualche altra curiosità perché mi hai sorpreso tante volte sembri un po' egocentrico non mi metto vergogna di dirti ma penso che lo sai ma è così è vero però ti devo dire che c'è una parte molto più profonda quindi rispondo a quelle persone che mi stanno chiedendo che cosa che cosa ci state guadagnando l'esperienza da chi è più grande un'esperienza diversa dalla mia un'esperienza diversa da quelle che non conosco quindi questa cosa qua ti ringrazio a voi questa cosa qua lo dico sempre a mia moglie quando io a mo dobbiamo andare là ma perché perché ci sono persone che non conosciamo quindi da quelle persone là tu impari sicuramente qualcosa sempre imparate poi può succedere una collaborazione può succedere che ti chiede qualcosa non si sa mai però conosce persone è sempre una cosa una cosa importante cioè purtroppo nel lavoro mio a volte te gli fa vedere che sei un supereroe no? ma io non so quello cioè se mia moglie mi prende in giro mi fa io ecco adesso muo farei una storia e farei vedere a tutti quanti chi è Antonio Vallone quando sto sul letto crepato stanco sul divano che mi porti però sei stato Antonio Vallone per dirti così quindi per far capire sì però lei dice allo studio fai vedere tutto bello tutto figo poi vieni qua e sei morto e ho capito ma se allo studio faccio vedere oh ragazzo pezzi mamma mia bro ma chi si vi allena con me la cosa che che poi mi ha fatto sbroccare con mia madre era questa qua che lei mi diceva tu non mi chiedi mai come stai lei mi diceva a me infatti perché tu me lo chiedi a me lei mi fa ma io ti vedo sui social che tu stai bene eh non è così infatti sui social per forza devo far vedere quando faccio una foto sui social sto così la faccia così pronto ok metto il sorriso e vado cioè deve stare perché quella parte quel sorriso quel dito cioè devono far vedere devono trasmettere qualcosa poi c'è uno che si incazza c'è uno che si stanca c'è uno che si stressa c'è uno che si incazza soprattutto sono esaurito però è così poi che il lavoro mio ma anche penso pure il lavoro vostro fa parte un po' dell'immagine quindi è quella è una cosa una cosa che l'immagine però è lo specchio di quello che c'è dentro cioè sentirti più bello fuori dentro di da una sicurezza diversa a me infatti quello che quello che arriva tanto quello che arriva tanto nel lavoro mio dici perché non c'hai una palestra la palestra è più semplice da averla cioè la palestra tua alzi la serranda metti gli attrezzi metti gli attrezzi poi andate a alzi la serranda e giri là dentro ok e talle giri là dentro alzo il braccio quello è quello è Gardaland io ce lo dico quello è Gardaland tu vai a Gardaland e giri o mo faccio sta macchina o faccio quell'altra il personal trainer se io alzo la serranda e entra il cliente il cliente dice non inizia fa niente se prima non parla con me cioè la cosa più bella che ho creato io nel mio studio personal è l'ufficio perché in quell'ufficio là dove siete seduti pure voi là esce di tutto dalla chiacchierata ci siamo fatti noi io mi faccio mezz'ora un'ora di chiacchierata con i clienti ma io ci vado molto spesso le persone piangono là dentro perché io gli devo tirare fuori le cose che loro non riescono a dire perché non riescono a dirsi soprattutto non riescono a dirsi perché perché fanno fatica io ieri ho sbroccato con una perché questa tutte le mattine alle 6 e mezza mi manda il buongiorno e io ci ho detto non mi devi mandare il buongiorno ma mi devi mandare il peso io del tuo buongiorno non mi frega niente a me serve la bilancia ok pesi 110 kg mi devi mandare il peso me l'ha mandato perché ha preso la grazia davvero non me lo sta manda più era costante a mandarmi il buongiorno la bilancia non me la manda io capisco che quella persona là quel buongiorno per lei era una coccola che magari non ha mai ricevuto e che magari voleva da me quindi capito è un discorso completamente diverso fra il personal trainer e una palestra perché a me piace comunque ascoltare le persone parlarci con le persone e ti dico che io faccio la differenza su quello cioè rispetto agli altri colleghi agli altri istruttori quindi che magari sono più bravi di me più fisicati più fisicati di me top con Vincenzo stiamo a fare un progetto su TikTok proprio per questo perché Antonio Vallone che parla che arriva che arriva alle persone come sta là con quel dito che ti indica e ti dice io ho bisogno di te tu hai bisogno di me io posso essere quello utile per te e invece stanno magari dei personal trainer che fanno vedere soltanto che loro si allenano alzano la maglia fanno vedere la tartaruga poi se ci parli fanno e là capisci che magari o non sanno parlare o non ti ascoltano proprio e quindi se tu non ascolti il cliente è come quando qualcuno si siede qua come vuoi i capelli lui ti spiega come vuoi i capelli e tu ci fai la boccia forse non hai ascoltato il cliente calcola cioè noi sto podcast l'abbiamo fatto per parlare i giovani però a me sto podcast mi sta insegnando pure ad ascoltare cioè io sono una persona c'è un brutto difetto forse parlo pure troppo e sto podcast invece mi sta insegnando ad ascoltare cioè che io stavo pensando di toglierti il microfono all'intervista lo sai non parla è stato è stato fantastico ma io scherzo se no non lo saremo c'è stata un'intervista in cui io avevo paura cioè lui mi ha detto io pure sono timido e non parlo ma invece a me una volta lui mi ha detto forse ho paura di parlare un po' troppo siamo andati a rivedere l'intervista ho parlato più io che lui e gli ho intervistato cioè questo lo bippiamo eh se l'argomento tanto lo sbagli se l'argomento appassiona come ogni cosa è normale che poi escono cose ma noi penso che da qua ma è la curiosità che insegna tanto uno è curioso impari e qua ritorniamo a Daniele meglio curioso che intelligente e là la curiosità nasce da conoscere le persone se a me interessa magari faccio domande e ti ascolto se non mi interessa vero devi magari non mi interessa sapere quindi però il lavoro mio è proprio questo parlare e ascoltare parlare e ascoltare parlare e ascoltare e poi riportiamo riportiamo là perché poi tanto è inutile che le lo dico a tutti quanti i clienti me l'allenamento diventa inutile se non è seguito da uno stile di vita nell'alimentazione quindi ci possiamo inventare quello che vogliamo ma il lavoro mio è completamente inutile se tu non fai uno stile di vita sano e non segui l'alimentazione magari si ti scarichi ti sfoghi ma non è allenandoti con me che dimagrisci magari ascoltandomi che forse dimagrisci bello vero ultima cosa i due tre valori più importanti tre valori lo faccio così perché ho letto che è più americano io valori qua andiamo nel sentimentale perché per me il valore più importante è il rispetto poi ovviamente viene la famiglia ma per famiglia non intendo la famiglia allargata quindi la famiglia per me è chi vive con me chi mi vive che è diverso poi valore importante è quello che diciamo sempre a tutti è la dignità potersi alzare la mattina o poter dormire la sera con la tranquillità è quella la cosa che il discorso che facciamo prima che quelli che mi dono dai soldi io non sono capace ho una liga di debito con nessuno è quella la cosa che a me mi fa stare tranquillo mi fa sentire una persona dignitosa quando mio figlio va in giro tutti quanti per me quello è importante camminare per terra cina poi non c'è cammino però a testa alta per me una cosa importante invece quando cammini vedi gente che va dall'altra parte quando ti incontra non è proprio non è proprio il massimo quindi secondo me quelli sono i valori più importanti non ne abbiamo parlato ma mi hai accenato nella preintervista che con la famiglia tua non c'hai più contatti cioè diciamo ti sei distaccato perché sono bestia non ne voglio parlare non voglio toccare l'argomento ma ti faccio un grande in bocca al lupo sperando che si risana il rapporto non si risana niente perché il discorso che ho fatto è che quando metto le croci e croce non si risana tranquillo io invece faccio un bocca al lupo a voi per questo progetto e per per tutto per il futuro mi raccomando sempre svegli e sempre attivi grazie mille Antonio a voi alla prossima grazie a tutti Grazie a tutti.